Credevi che Oran Clash non avrebbe lavorato ai prossimi tornei? Beh, ti sbagli, questo è soltanto l'inizio E oggi con Brulalla lo dimostriamo Troverai ogni tipo di guerriero, chi lotta per vincere Sì, parliamo del classico traiardone Chi lotta per mostrare il sonore E chi usa le pesanti Beh dai, avete capito di chi parlo Il classico spammone Chi toccherà la vetta potrà raggiungere Montepremi Ovvero la tesoreria di Oran Clash Bene, adesso impugnate un mouse, un joypad o una tastiera Perché la battaglia è appena iniziata Buona fortuna cari partecipanti O futuri iscritti Le porte del Balalla vi aspettano su Brula Beh sì, era per fare la rima Scusatemi ragazzi Da qui è tutto Oran Clash Oran Clash Oran Clash Oran Clash